Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokemon Lavandonia Signori miei, come la scorsa estate nella quale sono partito per 3 settimane per andare in Inghilterra Beh succederà la stessa cosa anche quest'estate e come la scorsa estate In questo periodo vi porterò sicuramente meno video e in questo caso vi porterò una Chrome Creepy Nello scorso anno se non ricordo male avevo portato a Pokemon Rosso Errore E oggi invece siamo qua, dovrebbe durare all'incirca 3 episodi Vedete la sidebar, ditemi anche se vi piace, logo un po' tutto E niente, iniziamo Vedete anche la facecam, ovviamente questo perché ragazzi la facecam ho deciso di metterla nelle serie horror o nelle nuzzlock In quanto in un gameplay normale rovinerebbe diciamo un po' l'attenzione, distoglierebbe l'attenzione Ecco, in un mondo dove la pace regnava sovrana tutto iniziò ad ingrigirsi Ok, sì Ho letto qualcosina sulla trama quindi so vagamente qualcosa ma non l'ho iniziato a giocare questa Chrome Quindi Nella regione di Kanto la vita scorreva tranquilla sino a quando apparve il male Indaga sul mistero di Lavandonia e scopri il mistero dello spettro In modo tale da salvare la regione di Kanto Cattura i nuovi po' con spettro Ricorda che sarai solo nella tua grande avventura Penso che ci sia scritto ma hanno balzato un testo Ma col tempo ti ci abituerai Perché chi fa da sé fa per tre Adesso è arrivata l'ora Solo tu potrai scegliere la tua sorte Bianca Villa ti aspetta Premi Z e basta A presto Signori miei come avete visto è una Chrome italiana E oddio Parte la musichetta di Lavandonia Finalmente sei arrivato Sta succedendo qualcosa di oscuro Ha a che fare con Lavandonia Ne sono sicuro Solo voi Uh Zorua Serio? Per molti anni ho studiato i Pokémon Ma non mi era mai successo una cosa simile Ho paura Che figata ci sono anche i Pokémon di Quinta Ma prima parlami di te Dimmi sei un ragazzo o una ragazza Massfem Attenzione alle abbreviazioni E ovviamente ci chiamiamo Creepy Comunque si vi porterò anche un'altra Chrome Durante questo periodo Faremo ogni settimana Più o meno Ogni settimana farò una Chrome E Dovrebbe Questo qua dovrebbe uscire prima dell'altra Si quindi non vi spoilerò qual è l'altra E Allora ok Vuoi aiutarmi a salvare Canto Si chiama Lo chiamiamo Gary direi Utilizziamo il nome normale Non lo chiamerò Roachet Come faccio di solito Gary Perfetto E Niente Anche l'altra Chrome sarà italiana Vi porto un po' di progetti italiani Che ho trovato in una sessione pomeridiana Di ricerche Bene Ora ricordo Si chiama Gary Creepy Sei sicuro di voler iniziare questa avventura Ho scelta per caso Ma E non proprio Aspetta Perfetto Ok E In questa stanza Che sembra essere la nostra Ma scura Immagino di dover scendere Non avere paura del buio Puoi sempre usare la mossa flash Ok Questo piccolo easter egg Mi è piaciuto Ok Oddio Madre A parte che hai i capelli verdi Ma Cos'hai da dirmi Finalmente ti sei svegliato Oh si Il professor Roach Ti stava cercando Ok Questo dialogo qua Penso che non sia cambiato A uscire E' tipo La musica di lavandogni E' quotata pochissimo E' strano Non me lo sarei mai aspettato Ok Oddio Ci sono tutti gli sprite cambiati Questa qua dovrebbe essere una medium Stanno soffre Stanno soffrendo chi? Leggilo Leggilo Ok Ci sono anche delle scritte in inglese a muzzo Ritrovo temporaneo sofferenti Oddio Che cosa brutta Raga Ma io Ok Aspettate Non mi conviene andare di qua Perché non ho pokemon Se trovo un selvatico Potrebbe crasharmi il gioco Dato che Otterrei praticamente missing No? Ok Voglio esplorare un po' la zona E tu cosa mi dici? Ciao creepy Mio fratello è il laboratorio del nonno Ok E questa mappa città viola E la mappa è la regione di canto E non me la fai vedere Perfetto Un cliffhary Ottimo Mi fa piacere Ok La roba di base è comunque inglese Però i dialoghi sono stati messi in italiano La cosa mi piace E sinceramente Tra l'altro non so se A parte che hanno ingrandito Biancavilla Cos'è sta roba Laboratorio Oh Gesù Cosa sei tu? Ci siamo dovuti trasferire dall'isola Cannella qui Non riesco a capire Neanch'io caro mio Una brutta Una brutta foto con quale cattiveria Sala riunioni Ma Ci sarà qualcuno? Sì ci sono un po' di Ho trovato delle cose interessanti sul monte Luna Ok Ci sono un po' di cose strane Tipo tu? Non so se te ne sei accorto Ma questa notte è un po' come ha creato una via Che collega Biancavilla L'isola Cannella e Fuxialopoli Chissà perché Come si o no E Ah si me ne sono accorto Ok Mi sa che Ok Non è Proprio Scriptata benissimo Ok Questa cosa qua è sbagliatissima Sto studiando le azioni meteorologiche Benissimo Ma perché c'è la nebbia nel vostro laboratorio? Una spiegazione me la sapreste dare tu? Ciao io sono un dottore famoso Scoperto come resuscita di Pokémon Basta avere un fossile E ne hai uno per me Tutta la vita Sto cercando Ponita Vuoi scambiarlo per sì? L'ovvio Cosa? Non è Ponita Ma come? Dai minchia un cavallo bellissimo Proprio il cavallo di Troia E no Stavo dicendo Ah si Non so se questa croma è completa raga Perché mi ha tirato una laggata impressionante? Non lo so Ciao Medium Aiuto il professor mi fa degli Strani esperimenti Ok Immagino di dover andare di qua Fermo Perché hai la tutina Rosa? Ok Non puoi scappare Il tuo destino è segnato Creepy Devi salvare la regione con mio nipote Seguimi La faccenda è seria Allora Mi hanno appena detto che tu Fai esperimenti sulla gente Quindi adesso Se puoi risparmiarteli Mi faresti anche un piacere Tra l'altro C'ho dei capelli Vergognosi Ma perché raga È mattina E quindi Le pokeball rosa Ascoltate la musica C'entra È tipo C'entra qualcosa con The Oxys Mi pare No Oh santo dio Dov'è che l'ho sentita Sta canzone Non mi ricordo Nonno Finalmente sei qui Gary Ora ricordo Sei qui per la missione Anche Creepy parteciperà Sì l'avevo capito zio Ci sono tre pokemon qui Haha I pokemon sono nascosti Dentro queste pokeball Se voi volete salvare la regione Dovete avere un pokemon Per aiutarvi Veramente Io dovrei andare Fermo Scegliene subito uno Ok Va bene E saranno i soliti sta Arter Proprio i soliti sta Mega Binet Mega Gengar Mega Charizard X Non sono presentabile Con sti capelli Madonna raga Che scelta difficile Ma io Serei Per Mega Gengar Sinceramente Questo pokemon È davvero bello È proprio Bello Riceve Mega Gengar Vuoi dare un soprannome A questo Mega Gengar No ce lo teniamo così E lui prende Mega Binet Perfetto Immagino che mi sfiderai Aspetta Creepy Facciamo un po' di pratica Perfetto Ma a che livello saranno Sti pokemon Giusto per A livello 5 A livello 6 Il nostro Ok perfetto E quindi Oddio Psicoimpulso Credo sia Nuovissima come mossa E puntualmente Non ha effetto Ottimo Abbiamo un problema Già No ho capito Che non posso Fuggire Ma Oddio C'è lo sprite Di Ghost Questa è la lista Di tu Eh ma non posso Far nulla C'è un problema Di fondo Anche lui Non può far nulla Forse Ho dovuto Scegliere Chizard Sapete Ok mi sa Che mi conviene Far finire Ippi Quindi Mi sa Che mi conviene Anche stoppare Ok ragazzi Ce l'ho fatta E tra l'altro La mossa Che utilizziamo Quando finiamo Ippi Non si chiama Scontro Ma si chiama Lotta Lotta Ok Cosa impossibile Si impossibile Che finita Sto battaglio Bravo Sei riuscito A fregarmi Sei fortissimo Ma come sono riuscito Cosa vuol dire Ok abbiamo vinto Creepy nonno A presto Non hai vinto Mai nella vita Creepy il mondo Cadrà Così nascerà Così Così Narra la leggenda Famoso signor Così Beato lui Che narra Questa leggenda Ma immagino Di non dover Andare qua Noi invece Posso andare Anche qua Oddio Che cosa Strana Quante medium Ok Allora Proviamo a parlare Quest'uomo Non parla È una È una donna È una donna Forse è per questo Che È come stregato Da questa strana musica Tiene qualcosa In mano Ehe Volevi No una pozione Perfetto Non andare a lavandonio Diventerai presto Come me Non sono uomini Ci abbiamo dei problemi Di natura Di natura Sessuale Perché queste sono A tutti gli effetti Donne E questo invece È un Daskal Psicoimpulso Ok L'animazione invece Penso che esista già E dovrebbe essere Di psicoslancio Uh Miaustic Che bello Raga Gli sprites Sono fatti bene Comunque C'è anche questo qua Di miaustic Guardate che figlio Di puttana Che mi ha fatto Vabbè Guardate che bello Lo sprite Ci sta Secondo me Maledetto Svegliati Gengard Dai che stai per salire Al livello 7 Non è che posso Perfetto Ah ma sarà pure curato Senti Ti scanno la famiglia Tra un attimo Quindi mi levo Perché poi Commetto un genocidio Ok Allora Immagino Che questa sia Smeraldopoli Manca qualcosa Tipo il saltello E Cos'è sta merda Una pokeball Creepy found Pozione Ottimo Benvenuto al pokemon center Vuoi che ripristino La vita dei tuoi pokemon Grazie per la pazienza Ripristinati pokemon al massimo Arrivederci Ok L'infermiera gioia È tipo una persona Qualunque credo Tu Improvvisamente Apparsa una via terrena Per l'isola cannella Forse qualcuno vuole Che tu vada lì O forse qualcuno Vuole che io stia qua A farmi i cavoli miei Ma Probabilmente Dovrò andare lì Però qua raga Ok Perfetto Qua è chiuso No No Fermi Save state Io so cosa succede Nel culo Lo sapevo Lo sapevo Mi è già capitato In un'altra Chrome Dark rising Mi è successa una cosa identica Ok La palestra è chiusa Proviamo ad entrare In un po' di casa raga A parlare un po' alla gente Perché Ok Questa qua mi sa che Che bello sto spiro Finito nel petrolio Ok No Queste case qua Penso siano rimaste normali Questa addirittura è chiusa No Però mi interessa Sta cosa qua Che belle Se sedie Se sedie A questo punto è veramente Se ci sono Se ci sono Immagino che Allora a parte che Questo gioco qua Non ha sta Gran trama Quindi potrei anche Risparmiarmelo Però se trovo qualche Pokemon figo Magari Non lo so Io Ehi tu vieni da Biancavilla Questo qua sul Bancone raga Mi piace un sacco Puoi portarlo Una cosa davvero importante Pacco Perfetto Quindi immagino che adesso Non potrei acquistare Esatto Che bella la vita Ok andiamo a vedere Cosa vuole Ok Perfetto Infatti effettivamente Ci ho pensato adesso Mi ero balzato Sta cosa qua Vediamo se Ok Reagisce A questa mia scoperta Ho scoperto Hai scoperto qualcosa No ma ho un pacco per te Di cosa si tratta E Cosa ne so Sono le medicine per i pazienti Oddio Nonno In giro è pieno di pazzi Ebbastanza Oh bene Ho una richiesta per voi Ma come ho bene È pieno di pazzi Oh bene Sto scoprendo una nuova medicina E mi servono tutte le informazioni Sui Pokemon Così avrò le idee più chiare Non ha senso sta cosa Perché dovresti aver bisogno Delle informazioni sui Pokemon Per scoprire una medicina Ma va bene così Ogni volta che ne catturerete uno Verrà registrato qui E otteniamo 5 Pokemon Ok perfetto Ehm No Ok Mi sto balzando un po' troppi i dialoghi Ehm Le vostre famiglie sono in pericolo Ve ne rendete conto? Ho capito Lo farò per mia sorella Creepy a proposito Mia sorella posiziona una mappa della regione Va a prenderla se ti serve Ok perfetto Quindi Mi sa che ci conviene andare raga E niente Dobbiamo andare Esattamente giù At Biancavilla Come direbbero I I nostri amici I nostri amici British Proprio Quelli che escono Dall'Unione Europea Così a muzzo Ok Adesso voglio vedere Che Pokemon ci sono Bene Mi sta già salendo il nazismo Muori Muori anche perché Effettivamente Ho bisogno di salire A livello 7 Ottimo così No se c'è qualche po' Con figo lo prendo Se sono solo Driflun me lo risparmio Ok me lo risparmio Via Datemi delle scarpe da corsa Vi scongiuro Io cerco pure Mi sembravano delle scritte raga Però forse mi sto sbagliando Vedevo T H No ok No Sono cose messe a muzzo Eccoci qua Isola cannella Questo qua è un altro NPC che è apparso a muzzo Io faccio un save state Prima di parlargli Ho modificato il tuo Pokédex Cos'è che gli hai fatto Tutti i Pokemon delle altre Ah ok Mi hai dato subito il nazionale Perfetto Tu si che sei un bravo uomo In questo piccolo spazio d'erba Uh Crocoroc C'è Oddio Non è che sia fatto benissimo Va bene Però è figo No Can't escape Sta fava Tu adesso mi fai fuggire Ok Vediamo se si trovano altri Pokemon Oh no Madonna addirittura Aspettate Crocodile però raga Se riesco a prenderlo Lo prendo Perché è un gran Pokemon Sinceramente E poi direi che possiamo stoppare fra poco Perché Sinceramente il primo episodio Sapete che io tendo sempre a farlo un po' più corto degli altri Ok Vediamo se ci sta nella Pokemon Dubito fortemente Ma magari Niente da fare Ovvio E' anche giusto Perché è un Pokemon abbastanza Con un catch rate alto Se non ricordo male Madonna Perché fallisce sto Mega Gengar Ho scelto il Pokemon cinese Ho scelto Graffio Dovrebbe reggerne un altro Perfetto Pokeball Dai Se non entri adesso Zio Uno Due Tre Eh Sì Sì Crocodile in squadra Descrizione del Pokedex Pokemon fortissimo Ok mi fa piacere Ripristinami la vita dei Pokemon Sì Voi avete Abbiamo lavorato tanto Improvvisamente è apparso un Pokemon spettro Sono iniziati a crescere degli alberi a nord di Smeraldopoli Poi il buio Infine sono emerse le terre Creando una via tra Biancavilla e l'isola Cannella Ok Che cosa ci fai qui? Stai investigando sul mistero di Lavandonia Non dovresti sfidare il male ragazzo Ok oddio Tutto iniziato a tremare Sembrava la fine del mondo Ok praticamente Tipo un dissesto Ah di qua si può andare a Fuxiapoli Allora aspettiamo un attimo Questa è la palestra di Coso Ma Ma Oddio Cosa è successo a sta palestra? Sembra quasi abbandonata Bastardi Ok Devo aspettare Eh no Praticamente sembra che questa regione di Canto Sia stata modificata E sia caduta nelle tenebre più totali E tra l'altro anche qua non posso entrare Quindi immagino di dover andare verso Fuxiapoli Ma ragazzi Noi ci fermiamo qua per questo primo episodio Io spero che vi sia piaciuto Se così vi dovete lasciare tanti bei mi piace per questa serie Vi ricordo che uscirà per un'intera settimana Dato che sono via mentre vedete questo video E niente Se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi Commentate sempre per dire che cosa ne pensate di quest'ack Che per ora mi sembra molto interessante Passate dai social che troverete in descrizione Come al solito Per rimanere aggiornati Dato che sui social Comunque anche se vado via in Inghilterra Sarò attivo Soprattutto su Telegram E noi ci becchiamo in un prossimo video E noi ci becchiamo in un prossimo video